Ciao ragazzi, come abbiamo visto che vi piace molto il Dinosauri, Jurassic Park Evolution 2 c'è molti video da fare nel canale, perché c'è il bundle, quindi c'è più Dinosauri, ci sono più dinosauri perché c'è il nuovo bundle quindi andiamo a vedere la reaction dei nuovi bundle, piano piano, li vediamo tutti quanti come possiamo vedere ci sono Spinosauro, Brontosauro, questo qua è un Pterodattilo, questo è il Librido perché stanno iniziando a mettergli il piumaggio ai Dinosauri, come stanno dicendo gli archeologi che magari c'erano le piume, molto realistico, vediamo anche qui che abbiamo i Velociraptor con le piume e anche questo qua perché praticamente sembrano delle galline giuganti, adesso stanno tutto cambiando nel mondo dei videogiochi con queste nuove scoperte, quindi andiamo a vedere il trailer del nuovo bundle con il Pterodattilo con i bobiti, non c'è un piume al T-Rex, diciamo, finissima le piume al T-Rex e hanno messo, finissime le piume al T-Rex, sono in nostro mondo e tutto ci ha cambiato, è la nostra responsabilità di proteggirli a loro, da un altro di noi stiamo. Dobbiamo imparare a co-existir. Non sarà facile. ... ... ... questo è molto più alto e non mi ricordo ma che sia bene wow che sia bene molto l'ibrida wow che sicura ok ci vediamo al prossimo perché ci spariamo tutti i nuovi bundle ciao